eccoci nuova puntata del salotto monogatari oggi due uscite che trovate in sala ormai da qualche giorno una è licorispizza il nuovo film di pta non potevamo evitare di parlarne però comunque marco e credo ciavo ne avevano parlato ai tempi al non mi ricordo in quale occasione per un special degli oscar ok certo ne hanno parlato brevemente noi approfondiremo poi in più marco non c'è e quindi insomma sentirete le nostre campane e quindi licorispizza di pta e poi sundown di michel franco o michel franco no michel credo si dica messicano non lo so michel franco e che anch'esso lo trovate al cinema e mi sa che anche di questo marco ne aveva accennato in qualche altro special però non vorrei dire una sugli special di venezia ok ah sì perché era stato a venezia certo sundown è stato a venezia perfetto e cominciamo subito da licorispizza che insomma è stato un po un film evento ormai dell'anno passato perché in realtà è targato 2021 però da noi è uscito adesso è un film evento perché pta non faceva film da da un po e anche perché fin dal trailer sembrava una cosa così di primo acchito anche a me molto diversa dal resto della sua filmografia e invece non è vero e questo ci fa piacere in realtà detto brevemente tanto ormai più o meno tutti sanno di cosa parla è una storia d'amore tra un ragazzo di 15 anni che è cooper hofman il figlio di philip seymour hofman e tra l'altro notevole sgaggio cool veramente scelta di attori ottima e alana interpretata dalla cantante alana heim che invece ne ha 25 quindi a 10 anni in più di lui questo già è abbastanza alternativo perché rappresentare in maniera comunque abbastanza normale una storia d'amore tra un preadolescente e una ragazza più che madrenne è abbastanza innovativo alana heim recita insieme alle sorelle francamente più belle e ai genitori veri quindi la sua intera famiglia è tutta riunita all'interno del film cooper hofman interpreta un aspirante attore quindi in entrambi i protagonisti ci sono dei riferimenti alla realtà quindi c'è del post realismo alla krezanowski e è un po tutto il film di pta è un piccolo bignami di nostalgia della della hollywood di una volta dell'america di una volta l'america presumibilmente della sua infanzia e preadolescenza in cui ci sono mischiati sia elementi verosimili o quantomeno ispirate alla realtà mi viene in mente il personaggio dell'attore impersonato da che è ispirato all'attore all'epoca alcolizzato william holden e però non è dichiaratamente lui si chiama jack holden c'è bradley cooper che interpreta john peters che invece che allora era il marito di barbara streisand che invece è un personaggio realmente esistente tuttora vivo e i riferimenti anche se barbara streisand non c'è va detto che i riferimenti a lei sono numerosi e la stessa direi proprio la stessa maschera inteso in senso buono della protagonista di halana è molto streisandiana quindi quel tipo di bellezza irregolare col col nasone però molto fascinosa sia femminile che mascolina molto energica per cui è pieno di questi di questi salti da una realtà all'altra vabbè sciocchezza però ho scoperto che anche giorge di caprio cioè il padre di leonardo di caprio che interpreta il venditore di materassi ad acqua possiede una negozio di materassi ad acqua e cosa che pta non sapeva quando gli ha offerto la parte quindi insomma ci sono una serie di cose così abbastanza abbastanza bizzarre e che servono a a paul thomas anderson per fare appunto un riassunto bignami di tutta la di tutto un cinema nostalgico e di quella che è la sua classica storia d'amore cioè una storia d'amore che è elastica cioè è un continuo tir e molla ha in sé dei germi proprio fanciulleschi molto belli perché ci sono queste ripicche tra di loro che non si confessano mai l'amore o almeno lui all'inizio lo fa però lei resiste prima esce con un suo con un amico di lui poi lui insomma la fa ingelosire con qualcun'altra poi diventano amici stretti si creano tutta una serie di situazioni veramente da veramente liceali con questa leggerezza di tocco notevole che però contiene come sempre in paul thomas anderson a mio parere contiene comunque dei dei substrati molto molto mesti ad esempio lui prende questi due personaggi che finiscono per essere due caratteri fortemente contrapposti quindi questo preadolescente energico con questo spirito prettamente americano imprenditoriale che in ogni situazione in ogni difficoltà lui tira fuori un modo per fatturare veramente notevole e il personaggio di lei più grande però più infantile di lui più indietro con più indietro nella vita meno speranzosa e che a un certo punto coltiva anche degli interessi politici a mi sono dimenticato che il personaggio interpretato dal regista benny stafdi non mi ricordo più come si chiama comunque è un politico tuttora joel wax sì tuttora vivente che ha fatto coming out di recente e pta ha ovviamente sfruttato questa cosa per parlare di quella che deve essere stata la sua insomma il suo dilemma la sua vita privata all'epoca in cui non poteva dirsi omosessuale che è l'epoca in cui ha ambientato il film dicevo alana a un certo punto matura degli interessi politici vuole cambiare il mondo e questo spirito molto post sessantottino che si scontra con il semplifico schematizzo però alla fine è un film abbastanza schematico diciamocelo e non in testenza negativo quindi non cominciate subito a fare gli hater vari ascoltatori oppure su letterbox in maniera frustrata però insomma è un film abbastanza schematico quindi lei è il il post sessantotto e lui è un po il pre reagan ok il pre ergonomics ovviamente ovviamente questo implica che paul tomas anderson debba in qualche modo presentare questi due caratteri contrapposti in ugual maniera e invece lui fa questa operazione interessante di inizialmente farci travolgere molto dal personaggio di cooper offman con una fascinazione comunque per alana e poi pian piano però il personaggio di lei a me sembra proprio a livello anche pratico di minutaggio comincia a prendere il sopravvento una delle scene cardine e ovviamente quello in cui in piena crisi petrolifera a loro finisce la benzina nel camioncino in cui sportano i materassi ad acqua e lei fa questa incredibile manovra e guida la macchina senza benzina lungo una discesa e riesce a portare tutti in salvo in una scena girata da dio con un'attenzione incredibile come direbbe vazok e questo è uno degli spartiacque che spinge sempre più l'acceleratore sulla anche in senso letterale sul personaggio di lei che è un personaggio molto complesso e sfaccettato e per cui in realtà paul tomas anderson secondo me se inizialmente tenta di stare addosso ai due personaggi si sposta sempre più verso lei e questo stare addosso e poi passo la parola agli altri si semplifica bene nel fatto che il film per quanto sia accurato nei dettagli al minimo non te lo fa pesare minimamente perché faccio un esempio ma chi ha visto il film viene veramente altri perché è tutto fatto così quando cooper hoffman va a vendere il primo materasso ad acqua alla fiera dei teenager si nota benissimo che la fiera è una di un'altra di quelle cose curate nel dettaglio peccato che sia tutto sullo sfondo perché la macchina da presa è interessato a seguire frontalmente il personaggio e che cammina per tutta la fiera e così è un continuo pedinare ma non in maniera zavattiniana pedinare stando addosso quindi facendosi scoprire è un continuo pedinare i personaggi e lasciare sullo sfondo tutto il resto che è un'operazione lodevole nella misura in cui per l'appunto stai stai facendo un film che è molto curato nei dettagli ma non lo metti in primo piano non so come spiegarmi quello che paul thomas anderson mette in primo piano è davvero la la sfaccettatura dei dei suoi personaggi e anche dei personaggi minori secondo me una delle scene migliori è quando alana aim va a fare un provino da attrice e quasi tutta la scena di dialogo è un primissimo piano della della donna che insomma che le sta facendo il colloquio di lavoro in cui che è un personaggio che appare solo in quella scena ok quindi è decisamente un personaggio secondario ma diventa subito centrale e noi notiamo in quel viso tutte le ambiguità e tutte le il sorriso sornione il anche un po la 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 insomma la bastardaggine simpatica di quel tipo umano lì il tipo umano di coloro che offre offre un lavoro insomma diciamo nel mondo nello show business a una giovane adolescente quindi lui riesce a cogliere queste sfumature queste caratterizzazioni al minimo tra l'altro il film è in una versione monca nel senso che è stato tagliato più di un'ora di girato e sicuramente prima o poi già quest'anno uscirà il final cut o come lo vogliamo chiamare e questo mi fa pensare che di queste di questi viaggi involti di personaggi anche fugaci ce ne siano davvero molti di più comunque passo la parola agli altri perché ci sono varie questioni da analizzare e quindi va andate simoneale io volevo collegarmi su questa cosa che hai detto del dello sfondo che c'è diciamo tutti i dettagli del contesto comunque avvengono sempre sullo sfondo di del di quello che accade a loro e questa cosa a me viene in mente un'altra scena in cui è particolarmente evidente quando lei va alla alla cena con champagne e e poi lì incontra il personaggio interpretato da tom waits e e poi dopo nel che vanno a fare questo questa cena nel nel locale dove di solito va cooper hoffman e quindi proprio qui si lui rito arriva anche lui nel locale e c'è questo continuo scambio di sguardi tra di loro tra l'altro lui dice proprio al quando arriva e vede lei seduta insieme a a questi a questi due attori almeno champagne fa l'attore non il personaggio di tom waits non mi ricordo forse far produttore ma non ne sono sicuro una cosa del genere e e lui appena entra chiede proprio al al gestore del locale di metterlo in una posizione in cui lei lo possa vedere direttamente e c'è e c'è un continuo scambio di sguardi tra i due personaggi tra alana e e gary gary si chiama il personaggio di cooper hoffman mentre tom waits e champagne che sono degli attori anche appunto molto importanti e molto famosi che dovrebbero in qualche modo concentrare tutta la scena su tutta l'attenzione dello spettatore su di loro in realtà rimane molto sullo sfondo quello che loro si dicono cioè a un certo punto si perde anche quasi il filo del discorso che stanno facendo loro perché si è concentrati più sugli sguardi tra dei due protagonisti che continuano in qualche modo a a scambiarsi per farsi per ingelosirsi tra di per far per far ingelosire l'altro e questa cosa marco lo diceva anche nel nello special secondo lo ricollega molto bene a a phantom thread da questo punto di vista c'è un film anche molto costruito sugli sguardi dei dei due attori protagonisti che molto spesso dicono delle cose ma intendono tutt'altro e lo si intuisce tranquillamente dagli dagli sguardi dalle smorfie che loro fanno e paul thomas anderson in questo film ha dimostrato nuovamente di essere un grande regista di di attori secondo me di di sguardi che nel senso cioè è una cosa che che mi ha colpito molto sia di questo film che ovviamente di phantom thread e mi sembra che abbia mantenuto questo questo approccio ora io non non mi ricordo bene se c'era anche questo focus così centrale negli altri suoi film mi verrebbe da dire sì però mi verrebbe da dire meno perché gli altri film sono anche più corali cioè mi viene in mente ad esempio buggy nights ci sono un sacco di personaggi certo c'è un protagonista di cui si seguono bene le vicende ma ce ne sono anche tanti altri idem in magnolia e quindi sicuramente questa cosa c'è ma in questi ultimi due film e probabilmente anche ad esempio nel petroliere sicuramente questo non me lo ricordo abbastanza bene da esserne da dirlo con certezza però mi sembra che negli ultimi suoi film si concentri molto anche su questo lavoro del del caratterizzare i personaggi semplicemente da dagli sguardi da smorfie che come tu dicevi anche anche personaggi secondari come la la l'agente attoriale quella da cui lei va a fare la il provino ma molto semplicemente la questione dello sfondo a cui fate riferimento come fu anche per tarantino once upon a time in hollywood eh è data anche molto banalmente dal fatto che loro sono nella san fernando valley però sono sempre a contatto con quello che è il mondo di hollywood che ha una collina di distanza praticamente quindi abbiamo eh figure del mondo di hollywood però sempre figure o comunque in declino come può essere l'attore interpretato da champagne che ormai eh è costretto diciamo a eh per trovare un senso nella sua vita a ricreare quelle che sono i suoi vecchi le suoi vecchie esibili ma anche la figura del produttore interpretata da Bradley Cooper che alla fine il produttore per quanto possa essere importante appunto nella produzione cinematografica è comunque una figura eh di sfondo diciamo e specialmente se sei sposato a Barbara Streisand che all'epoca era una una superstar e quindi chiaramente eh insomma come dire sei 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 in secondo piano anche a livello di gossip mettiamola così eh no quello che quello che quello che avete quello che è attuale per esempio su quella scena bellissima al locale che si chiama una cosa tipo cock and tail una cosa del genere eh sì forse il contrario tale and cock tale and cock vabbè sì insomma eh eh sì in quel caso per esempio il discorso tra Sean Penn e Tom Waits non solo ci si perde completamente ma eh proprio non lo si sente neanche più perché è così rilevante il lo scambio di sguardi tra di loro da annullare tutto il resto e d'altronde anche gli eventi esterni di cui quello più pesante è sicuramente quello della crisi petrolifera eh che è vissuta dai due personaggi in maniera totalmente opposta perché a lei per lei è uno stimolo all'impegno politico e per lui è un'altra cosa cioè a parte a parte un'occasione per far profitto ma poi eh banalmente con la scena bellissima delle macchine in fila bloccate perché eh è finita la benzina e lui col fratello più piccolo che passa in mezzo e dice guarda eh è l'apocalisse eh ridendo eh quindi con questo spirito molto molto leggero ma anche molto intraprendente nel nel prendersi subito quello che vuole che è l'impatto immediato del film fin dall'inizio e lui che si approccia immediatamente a Alana tra l'altro ehm all'inizio non è così però la sensazione è quella quasi di una soggettiva di lui per tutti i primi minuti perché la la macchina della presa sta addosso a lei e che il suo oggetto del del desiderio e lui lo sentiamo sempre da dietro cosa del genere e che stavo dicendo sì insomma quindi anche lo sfondo storico quindi gli avvenimenti sono tutti però una scusa per scaramucce alla fine per scaramucce tra di loro e come se PTA quello che stava dicendo Ale paragonando con Phantom Thread e ci metterei anche il petroliere eh qual è la differenza con licorispizza che questa attenzione per l'umano e viene utilizzata in questo film per qualcosa di molto leggero cioè sembra quasi che PTA non debba voler dimostrare ehm insomma la complessità del suo metodo del suo modo di fare cinema ma lo prenda e lo instilli in una storia il più possibile semplice cioè in una storia romantica e Phantom Thread è anche quella una storia d'amore però insomma c'è tutta una complessità anche psicologica di un certo tipo e qua invece lui vuole riacquistare una leggerezza e ammesso che questa è l'impressione diciamo di primo impatto eh tuttavia la mia la mia seconda impressione è che ci sia qualche cosa che ehm che attraversa sottilmente questa questa impressione di leggerezza e che poi alla fine regala quasi un finale non dico onirico però molto simile in cui loro corrono ehm prendendosi per mano tra l'altro immagine che eh è parallela alle le altre almeno tre corse eh che sono avvenute durante il film lei che corre verso di lui quando lui viene arrestato lui che corre verso di lei quando lei cade dal dalla motto di Sean Penn loro due che corrono eh uno di fronte all'altro quando si ritrovano e poi alla fine loro due che corrono insieme mano nella mano e in questo finale a Ralenti in cui lei finalmente dice a lui che lo ama in eh fuori sync o con una voce over non mi ricordo eh comunque ha questa atmosfera mhm quasi onirica perché è proprio una una fuga dalla realtà quella che fa Paul Thomas Anderson col film cioè per carità ci mette elementi reali dettagli o cose del genere e fa pesare alcuni elementi della realtà eh tra cui la crisi petrolifera e la vicenda dell'omosessualità di Wax per esempio li fa pesare sulle vite dei singoli personaggi eh però poi loro trovano un rifugio in loro stessi è un film molto chiuso tra quattro mura emotive eh un film molto anti impegnato e su questo non possiamo che esserne contenti vista tutta la la merda a tesi che ci siamo sorbiti negli ultimi due tre anni eh e quindi chiude un po' tutta questa eh il il metodo di di Paul Thomas Anderson secondo me in questo film eh rivela mhm fa emergere meno complessità che in altri però è più adatto non so come spiegarmi e non so se Simone su questo perché lui mi pare che anche lui avesse dei dubbi sulla leggerezza effettiva del film ha qualcosa da dire comunque gli lascio la parola no ecco io sto recuperando purtroppo pitiati recente e tra quelli che ho visto soprattutto giovanili eh io ho imputato come difetto quello di avere questa sorta di eh voglierismo molto poco naturalistico che poi va a eh a creare questa sorta di eh idiosincrasia tra la voglia di voler caratterizzare un personaggio e andare alla ricerca di questa forma eh così controllata eh così geometrica però effettivamente parlando con Marco e facendomi anche in questo caso portavoce di quello che è il pensiero di Marco riguardo a Liguri Spizza e mi sono effettivamente reso conto che eh visto da una certa chiave di lettura che tu giustamente esemplifichi in quelle che sono le corse perché anche quando dicevi eh come la telecamera effettivamente segue i personaggi è anche vero che i personaggi muovono la telecamera e questo può essere visto soprattutto nelle tre scene delle corse in cui appunto eh la telecamera è quasi sempre in opposizione ma poi alla fine la telecamera segue entrambi nella stessa direzione oppure all'inizio molto banalmente quando eh la telecamera si fissa su Alana lo fa perché eh è proprio Gary Valentine che guarda Alana e allora la telecamera si sposta a guardare lei e anche quando lui cammina si sposta a seguire lui eh e no e quindi Marco mi faceva giustamente notare che è un film eh di esibizione ma è un film di esibizione perché come dicevate anche voi eh un'esibizione comunque sia interna di personaggi che vanno alla ricerca appunto del del loro senso della vita quindi uno lo fa attraverso l'impegno politico e l'altro lo fa attraverso eh il senso imprenditoriale ma anche un'esibizione verso l'esterno cioè non ha eh peli sulla lingua nel vorrei mostrare che effettivamente sono delle persone davanti a una telecamera quindi è un po' antinaturalista in questo senso eh si tratta di esibizioni che vanno a collidere con quel senso di storia che c'è all'interno del del film come ad esempio eh dicevi anche tu la scena di out of gas eh in cui questi personaggi è come se eh cercando eh cercando questo senso di vita all'interno di eh quella cornice storica si debbano eh in un certo senso svendere sia a se stessi che agli altri e quindi sì diciamo che mi do torto da solo e espio la mia colpa dicendo che effettivamente eh è un film antinaturalista ma ha ragione ma secondo me Simone si è dibattuto con se stesso e si è dato torto molto interessante no dico secondo me questa cosa qua che dici tu è anche eh esplicitata anche abbastanza chiaramente nella scena eh in una delle scene finali eh in cui lei viene chiamata a eh in un locale dal dal politico da eh da Wax eh per interpretare eh la fidanzata eh di 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 lui mentre a fare una mentre è a fare una mentre è lì a un appuntamento con il suo eh il il suo ragazzo eh lui perché sa di essere sotto controllo e non vuole far trapelare il fatto che lui sia un uomo sessuale e tutta quella scena lì almeno nella prima parte eh lei viene ripresa eh riflessa in uno specchio ed è tutta la telecamera segue soltanto lei mentre loro due i due i due di questi due i due i due i due i due e i due e l'altro eh e e l'altro quello che interpreta il suo il suo fidanzato eh eh discutono in qualche modo litigano perché lui eh uno vorrebbe che eh la sua immagine fosse rivelata in pubblico cioè lui fosse se stesso e invece l'altro eh vuole continuare a nascondere la sua identità perché altrimenti cadrebbe tutta la sua eh missione politica perché ovviamente a quei tempi non erano ben visti però tutta questa scena comunque viene rappresentata inquadrando lei allo specchio quindi lei portata lì come un'immagine appunto e mi sembra che rappresenti molto bene quello che dicevi tu Simone su questa cosa dell'immagine svendersi anche un po' forse ma allora su questa cosa io non c'è io da dire due cose la prima è che questa scena è chiaramente simile all'altra che ha fatto notare Ale quella in cui appunto ci sono Sean Penn e Tom Waits che discutono ed è l'ennesima dimostrazione che tutto il film non è altro che il punto di vista dei due adolescenti anche quando c'è come dicevo all'inizio la centralità di un personaggio secondario però c'è perché loro magari sono di fronte a quel personaggio e ne scrutano ogni minimo così affratto visivo emotivo sul volto e PTA ha una è fortemente interessato a scrutare i volti dei personaggi la scena in cui loro inaugurano il negozio di materassi ad acqua e Gary Valentine amoreggia con la con quella ragazzina e noi notiamo tutto ciò che non è che vediamo un gran chedi quello che fa Gary Valentine e addirittura quando entrano in bagno non vediamo proprio niente quello che vediamo noi è lo sguardo di Alana Ame è lo sguardo di di lei il modo in cui si muove il corpo di lei ma soprattutto il suo volto quindi è tutto il punto di vista degli adolescenti ed è chiarissimo in definitiva su questa scena ultima quella che diceva Ale ma la seconda cosa che vorrei dire su questa scena è perché vorrei un attimino far capire la differenza secondo me tra un cinema a tesi o un cinema in cui ci deve essere per forza l'elemento politico pseudo progressista è un cinema in cui elementi vari anche socio politici vengono sfruttati in maniera diversa vorrei dire che questa scena è proprio l'esempio di del secondo caso che ho detto perché tralasciando la il distacco la leggerezza con cui Paul Thomas Anderson guarda all'impegno politico di lei non lo condanna né ne ci empatizza troppo è proprio eh lui quello quello che lui fa emergere è il trasporto emotivo di lei prima che l'argomentazione eh razionale e il trasporto emotivo di lei rispetto a questa situazione intorno al cambiamento della realtà esterna ma quello che è importante è che il tema dell'omosessualità ad esempio come viene usato in questo film viene usato in maniera sottile per dare la svolta emotiva finale all'intera pellicola perché cosa succede in quel momento in quel momento quando Alana riaccompagna il ragazzo del eh del candidato sindaco a casa e piangono entrambi e poi si abbracciano quel momento in cui Alana inizia a correre e va a cercare eh Gary eh Gary è già andata a cercarla perché Gary si è reso conto di aver tirato su tutta la sua impresa eh nuova solo per aspettare che Alana lo venga a trovare il giorno dell'inaugurazione quindi quello è il momento in cui lei si rende conto che non ha più senso continuare a eh a non dirsi che ci si ama e quindi va incontro a Gary per cui è a mio parere è inevitabile che questo sia un effetto eh della dell'esperienza che lei ha appena vissuto per cui il tema dell'omosessualità qui è usato non per fare il predicozzo la morale eh oppure per mettercelo così come eh come elemento spurio o superfluo o di finto impegno è rilevantissimo è il momento in cui lei nota una coppia di persone che si amano e che però non possono dirselo o comunque non possono dirselo in pubblico e che si devono nascondere e il suo cervello in maniera assolutamente non didascalica a mio parere cioè una cosa che è così di di è così un impeto emotivo che ci devi un attimo riflettere dopo appunto non è didascalico eh è il momento in cui lei si rende conto che non ha senso questo tire molle questi giochetti con Gary perché loro invece hanno la possibilità a differenza di quella coppia gay hanno la possibilità di vivere il loro amore liberamente quindi si incontrano lui lo annuncia in piedi sulla sedia all'interno del locale e poi fuggono insieme mano nella mano cioè sembra sembra una sciocchezza però secondo me questo è proprio il classico esempio di come una tematica anche importante può essere sfruttata bene anche se viene eh tirata giù a due minuti dalla fine di un film questo per capire la differenza comunque tra un cinema come quello di Paul Thomas Anderson che in effetti guarda al lato umano delle cose guarda le persone prima che ha i personaggi cioè ha i personaggi in quanto persone e non a caso questo film come dicevo all'inizio è pieno di elementi che collegano i personaggi alle persone Cooper Hoffman non si dice che fine ha fatto il padre di Gary Valentine nel film però è comunque un aspirante attore senza padre e l'attore che lo interpreta è un aspirante attore senza padre perché Philip Semonoff non è morto e lei addirittura recita con tutta la famiglia annessa puri i genitori e recita con il suo stesso nome per cui questa 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 questo modo di avvicinare sempre di più il personaggio alla persona è proprio perché Anderson è interessato alle umane cose per dirla in maniera così trecentesca e una delle cose in cui si nota è proprio l'utilizzo di una tematica così rilevante e così straabusata in questo periodo come per esempio il coming out il coming out dall'interno della comunità omosessuale così tirato via un tema buttato lì che però è una svolta da trama e quindi poi finisce per essere un messaggio in qualche modo anche se non è il messaggio l'obiettivo principale del film non so se sono stato chiaro su questa cosa sì sì un'altra cosa molto in contrasto con come vengono appunto narrati determinati film attesi è che questa relazione tra Lana e Gary sarà comunque è sempre una una relazione in cui c'è questa asimmetria di di potere una simmetria di età ed è ben rappresentato soprattutto nel momento in cui la vita di Alana prende questa piega molto ideologica politica in cui lei finalmente diventa quello che è praticamente il capo di Gary perché Gary viene declassato a regista degli spot del del politico mentre in realtà fino a quel punto era proprio Gary nonostante sia comunque più piccolo di lei a tessere le fila del rapporto proprio perché era lui a darle lavoro sì è vero non credo che questa dinamica venga spostata più di tanto in realtà credo solo che i due personaggi prendano due strade diverse e si rincontrino a livello sentimentale però l'operazione che fa lui di mettere due personaggi con una età così distante che a quell'età non sono dieci anni sono venti come percezione che hanno i partecipanti e di farla a sessi inversi che avviene più raramente rispetto a un ragazzo più grande la ragazza più piccola è interessante proprio per il fatto che hai detto tu cioè che poi in realtà nei fatti è l'esatto opposto cioè lei all'inizio è più immatura di lui mettiamola così cioè è più ancora ancorata all'infanzia lui si prende cura del fratello quando la mamma non c'è lavora si dà da fare ha idee iniziative e lei vive in questa casa opprimente fa un lavoro misero eccetera eccetera e quindi la dinamica di potere è continuamente bilanciata lei è più grande di lui ma lui è più maturo di lei c'è continuamente questa bilancia e alla fine non è che si stabilizza semplicemente loro due trovano una trovano due strade diverse sì due strade diverse che poi sembrano allontanarli però poi alla fine non li allontanano davvero quindi sì anche questo mi sembra molto rilevante rispetto a gran parte del cinema sulle relazioni che vediamo adesso ecco un'ultima cosa che per quanto mi riguarda collega questo tipo di operazione a quella che fece comunque Tarantino qualche anno fa è che nonostante ci si ritrovi all'interno di una cornice storica non è semplicemente un film nostalgico comunque un film che va a riprendere determinati stili dell'epoca ma proprio come fa Tarantino ci sono dei rimandi che più che didascalici e specifici sono più un rimando all'atmosfera di certi film del periodo mi viene in mente ad esempio il tizio fuori dal dal booth elettorale dove loro fanno i volantini fanno volantinaggio che ricorda molto appunto alcune scene di taxi driver oppure come diceva prima Dario la scena di loro che sono all'interno del camion ricorda molto una scruble comedy ma poi alla fine è una scena molto tensiva quindi va all'opposto di quello che era la scruble ce ne sono tanti di queste cose andrebbe in realtà rivisto analizzato passo passo perché è veramente pieno di questi elementi senza dubbio passiamo a sundown dunque sundown michel franco lo chiamo così tanto ormai è di tradizione che io sbagli i nomi quindi non ci sarebbe problema protagonista assoluto tim rotta anche se c'è una charlotte gainsbourg sempre bravissima film incredibilmente breve scusate se rimarco su questa cosa della durata però davvero franco in questo caso cosa che non riusciva secondo me con nuovo order riesce a condensare una tantissime cose all'interno di un film molto breve in breve scusate il gioco di parole tim rotta charlotte gainsbourg che sono fratello e sorella lei ha due figli loro sono ereditieri di una di una industria di carni questo elemento della carne della della macelleria dei maiali ammazzati non sembra essere privo di traumi per tim rotta che vedrà spesso immagini di animali morti nella sua durante il corso del film quasi identificandosi un po' con quelle con quelle vittime sacrificali sì soprattutto con la prima che è un pesce che sta praticamente annaspando primissima immagine sì però c'è anche i maiali ammazzati in casa quando lui ha il collasso e che gli scoprono il tumore il maiale in prigione vabbè comunque in ogni caso fratello e sorella ereditieri quindi straricchi in vacanza ad Acapulco che una volta era una meta vita per le vacanze ricordo Acapulco prima spiaggia a sinistra di Sergio Martino però insomma quella che rappresenta Franco è un bellissimo posto di vacanza peccato che ci siano i militari dappertutto e la gente che si spara a vicenda addirittura ho letto da qualche parte che Acapulco è il posto più pericoloso del Messico che è più o meno come dire non lo so in ogni caso il Messico è molto pericoloso quindi dire che Acapulco è il posto più pericoloso del Messico vuol dire che veramente insomma il pericolo è dietro ogni angolo letteralmente sono in vacanza lì a oziare bellamente muore la loro mamma quindi presumibilmente la capa assoluta e lui finge di aver perso il passaporto e quindi parte la sorella con i nipoti e lui non si fa lui rimane lì non si muove da lì non risponde più al telefono intrattiene una relazione con una una ragazza del luogo è una relazione fatta di silenzi questo è un film molto silenzioso e il personaggio che parla di meno è senza dubbio il Tim Roth il protagonista e non si capisce bene il perché lui faccia questo per me è qualcosa di molto camiusiano cioè è un personaggio che davanti a eventi anche tragici quello iniziale è la morte della madre però poi ne avvengono altri per esempio quando sparano a un uomo sulla spiaggia e lui rimane abbastanza impassibile rimane impassibile quando gli comunicano che ha un cancro con metastasi eccetera eccetera l'unico pianto se lo fa quando muore la sorella ma comunque abbastanza così contenuto nel senso che poi smette subito e soprattutto non ha nessuna reazione forte quando capisce che vorrebbero incriminare lui per l'omicidio e lui quindi deve passare un bel po' di tempo in una prigione messicana che vi assicuro non è il massimo della vita quindi in ogni caso è veramente un personaggio camiusiano nel modo in cui vive qualunque situazione anche tragica con una un'apatia una indifferenza veramente patologica tant'è vero che chi lo conosce intorno a lui a partire dall'avvocato che si chiama non mi ricordo come Lawrence forse chi lo conosce intorno a lui gli chiede continuamente cosa ci sia che non va perché appunto lo vede passivo totalmente lì a subire la vita rinuncia anche al profitto firma le carte per per avere sì la sorella gli concede una pensione mensile anche cospicua dire il vero però lui rinuncia a far profitti con le aziende e lascia tutto il business in mano alla sorella però un'unica precisazione da quello che ho capito io lui era già consapevole di avere il cancro sì anche secondo me questa cosa è abbastanza è abbastanza sì 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 allora sì cioè senza secondo me in realtà c'è proprio una scena in cui parla con il con il notario l'avvocato che in cui l'avvocato dice se parliamo della tua condizione esatto e quindi vuol dire ma comunque in generale c'è quella scena all'inizio perché comunque il tempo nel film non ha mai dato modo di farti capire che non fosse lineare quindi la scena in cui si iniziano a sentire questi suoni metallici quasi da oddio come si chiama da risonanza elettromagnetica e si vedono si vede questo questo neo comunque questa cosa molto strana sul corpo di lui fa capire che comunque lui era già a conoscenza sì giustissimo avete ragione allora il discorso è questo anche considerando questa cosa chiaramente questa sua apatia non è per forza giustificabile quindi no 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 è giustificabile aspetta aspetta fermo fammi dire l'apatia può avere una motivazione nel cancro quindi chiaramente non ha una motivazione metafisica forte a livello di Camus però il punto è che il modo in cui Franco rappresenta questa apatia e la impersona Tim Roth è radicale cioè è un'apatia che veramente sconvolge totalmente gli equilibri della sua vita più di quello che avverrebbe se lui stesse a casa a Londra a farsi curare il cancro e quindi anche senza reagire in maniera particolare cioè semplicemente stando lì a farsi usare dai medici ma il modo in cui lui reagisce cioè non solo non facendo niente ma tagliando i ponti con la realtà della sua vita di tutti i giorni è qualcosa di radicale e di dirompente cioè è una forma di indifferenza che però provoca conseguenze nel mondo nel mondo intorno a lui e a queste conseguenze lui reagisce con ulteriore apatia e indifferenza cioè questo è il punto al di là del fatto di qual è stata la molla che ha fatto scattare sì infatti a me viene da dire che il fatto che lui alla morte della sorella reagisca piangendo ha perfettamente senso perché secondo me lui ha proprio la consapevolezza che nonostante lui abbia scelto di l'indifferenza l'apatia il non reagire più nel mondo e nel farsi semplicemente cioè subire il mondo in quel momento di pur nel suo non agire cioè rimanendo comunque accorato al suo non agire ha determinato una conseguenza ovvero che la sorella viene uccisa da dei da dei criminali di strada praticamente sì 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 e la cosa per me interessante è proprio chiaramente questa questa apatia è determinata dal diventare consapevole che nulla ha più senso ok quindi non ha senso non ha senso il denaro non ha senso neanche la famiglia a cui lui vuole bene però non ha senso neanche tornare a casa fare il gesto di tornare a casa ha senso solo lasciarsi cullare in questo nulla in questa specie di limbo che è la spiaggia che è Acapulco che è un farsi cullare che lui che lui persegue anche in una situazione estrema come la prigione sono molto belle le scene in prigione perché lui non cambia di un non cambia di una virgola insomma rispetto a quando è fuori dalla prigione proprio come come atteggiamento e al contempo in questo non contare più nulla è rilevantissimo la storia d'amore con lei perché loro si cercano loro stanno in pace perfettamente insieme e sembra qualcosa che dà la serenità a lui che riesce a fargli affrontare insomma le varie situazioni senza così senza flagellarsi più di tanto il gesto finale che fa lui di uscire dall'ospedale e lasciare lei dentro l'ospedale è ulteriormente radicale cioè a quel punto lui ha bisogno anche di questo ulteriore distacco cioè ha bisogno di qualcosa che dia una una distanza tra lui e il resto del mondo e in effetti io durante il film mi chiedevo ma questo rapporto che lui ha instaurato con lei non è un po' una una cicatrice una contraddizione all'interno di questa di questo desiderio di distanza dal mondo e a quanto pare sì perché alla fine fa l'ulteriore scelta di allontanarsi ancora una volta cioè è un film che riesce a parlare della violenza della realtà intorno diciamo filtrandola attraverso l'occhio di un personaggio che non guarda indignato questa realtà non la guarda spaventato e non la guarda neanche interessato non la guarda e basta si lascia completamente vivere e e si arrende però nell'arrendersi va avanti paradossalmente in maniera serena cioè è un'apatia che ha una condizione di serenità ecco perché io non riesco a condividere le analisi di quei recensori che hanno parlato di un sostanziale pessimismo del film non riesco a vederlo completamente così mi sembra che in questa indifferenza ci sia un fondo di serenità lui è in pace anche quando i nipoti reagiscono male ai suoi gesti affettuosi e si allontanano e se ne vanno così come in mille altre situazioni lui a lui gli vuole bene però non è neanche così tanto dispiaciuto è lì è lì e si fa trascinare dalle cose l'immagine simbolica per eccellenza è quella dell'acqua che continua a arrivare sulla sulla riva spesso andando oltre gli ombrelloni e le sedie di chi è seduto sulla riva e placidamente arriva e torna indietro cioè è proprio un lasciarsi trascinare dalle cose non so se su questo siete d'accordo però sì sono molto d'accordo infatti ci sono molte finezze che in un certo senso giocano con quest'idea tipo come dicevi giustamente l'acqua che arriva sugli ombrelloni e lui si premura girando la testa nel controllare che le ciabatte non vadano a finire in mare secondo me quella è un'immagine bellissima sì ecco sì c'è questa sostanziale serenità e attenzione al dettaglio che però appunto non è semplice serenità c'è l'elemento di apatia c'è il non riuscire neanche a spiegare le cose per questo lui evita da un certo punto in poi di rispondere persino al cellulare e non dà tante spiegazioni né alla sorella né all'avvocato né ai nipoti perché sostanzialmente queste spiegazioni non ci sono Tim Roth parla poco perché non ha nulla da dire non ha nulla di rilevante da dire e lo sa e semplicemente vuole essere lasciato in pace sì sì vai vai proprio per parlare di struttura non so se è capitato anche a voi a me la prima mezz'ora ha disorientato così tanto che io per un attimo mi sono messo a ridere perché ho avuto quest'idea che l'espediente fosse così comico così inconoscibile proprio nelle ragioni del suo essere così che mi ha portato a prima a ridere e poi non dico a piangere però comunque il film è abbastanza drammatico è abbastanza vero nel senso che una tale distanza dalle cose del mondo ha qualche tratto in comune con la distanza ironica senza dubbio però tu capisci infatti secondo me perché è un bel film questa cosa che hai detto tu Simo è rilevantissima cioè mi sembra che questo che hai detto tu è il motivo per cui Franco da un certo punto in poi inserisce una tragedia molto forte dietro l'altra perché altrimenti non sarebbe arrivato il senso del film se ci pensi cioè sarebbe rimasta questa distanza ironica quando in realtà lui che spesso tra l'altro fa dei sorrisi veramente di una persona non in pace con se stesso o con il mondo però in pace con quella che è la vita cioè che si aspetta che accadono determinate cose in fondo è per questo che è sereno ecco perché il cancro oltre ad essere una buona spiegazione non sposta di un minimo il discorso sull'apatia perché è un'apatia forse che è determinata dall'essere consapevoli che le cose brutte accadono e da non lasciarsene sconvolgere troppo però senza reagire nemmeno e quindi Franco per poter calcare è una causa adeguata ma non è un insieme di cause perfetto esatto e quindi Franco per far capire questa cosa deve metterci le tragedie a un certo punto non tanto la morte della madre che è il 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 McGuffin in un certo senso o comunque insomma l'avvenimento che fa partire il film quanto la tragica morte della sorella il comunque sono molto forti anche quelle le scene di 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 rifiuto dei nipoti ok le scene in prigione e poi alla fine la diagnosi per cui insomma perché tutte queste cose perché il senso è di far vedere come un campionario di quello che di brutto avviene nella vita è un personaggio che non se ne lascia sconvolgere ma non perché sia positivo e neanche perché sia negativo nei confronti della vita e perché è rassegnato in un certo senso ma nella rassegnazione c'è un po' di serenità secondo me sempre ora che mi ci fai pensare nel finale viene detto comunque che il suo cancro è andato parecchio avanti che se l'avesse preso per tempo in quel di Londra probabilmente si sarebbe salvato e quindi la domanda che rimane a fine film è ma lui era già consapevole di avere un cancro terminale o si è lasciato andare e anche questo si iscrive in quel discorso che appunto stai facendo a me sembra sia più probabile la seconda perché appunto rientra nel quadro del personaggio cioè il cancro è una cosa in più ripeto ma è proprio un atteggiamento nei confronti della vita in cui le cose si si subiscono si subiscono senza poterci far nulla e quindi non lotta magari o non ha lottato all'inizio per evitare che il cancro andasse avanti così come non lotterà gli ultimi momenti perché infatti prende e se ne va dall'ospedale anche una volta saputo delle metastasi e tutto quanto anzi ha maggior ragione a quel punto perché non si può fare un granché e lascia anche lei perché probabilmente lei che ormai sia affezionata a lui farebbe quello che avrebbe fatto la sua famiglia a quel punto cioè proverebbe magari a gli starebbe vicino proverebbe a farlo reagire e lui questo non vuole ecco perché tagli i ponti con tutti forse un'altra cosa che mi è piaciuta molto e che in linea anche con quello che fu il nuovo orden è questa ricerca molto naturalistica del contesto ci sono delle scene che mi hanno ricordato film come reality di Garrone questa cruda realtà in cui proprio le persone vengono rappresentate nel loro nel loro intimo nonostante sia pubblico mi viene in mente vabbè la scena dello sparo appunto ma c'è uno shot bellissimo in cui due persone evidentemente sovrappeso sono in acqua a guardare il sole che tramonta lì è pieno di questi dettagli c'è una ecco a proposito prima si parlava di PTA del contesto dell'intorno in in franco mi pare invece che il contesto sia spesso in primo piano perché comunque è il suo paese lui vuole raccontare anche una realtà sociale e politica e sceglie proprio una realtà così estrema in cui il pericolo è l'ordine del giorno per buttarci dentro un personaggio che non ha nessunissima intenzione di reagire ad esso perché questo rende ancora più significativo il tutto questo è il motivo per cui lui riesce a dire tutte queste cose in un'ora e venti perché le immagini che ha scelto lo stesso ambiente che ha scelto è già immediato è efficace quindi un un paese in cui c'è questa serenità di persone sulla spiaggia è veramente di impatto la prima scena in cui si vedono i militari cioè persone sulla spiaggia tranquille sembra veramente di stare su un lido anche italiano però dietro c'è l'esercito che passa ogni tanto avanti e indietro sono anche delle inquadrature in cui si vedono semplicemente le gambe di un soldato dell'esercito in primo piano al lato e in fondo il mare la gente spiaggiata cioè è un contesto molto forte in cui inserire un personaggio così particolare che è ricco che potrebbe stare in qualunque altra parte del mondo e abituato agli agi della vita e non certo alle cose aspre della vita può sembrare una cosa bizzarra però alla fine riesce a essere un discorso coerente sull'insensatezza del tutto un discorso veramente da da teatro dell'assurdo da tragedia greca volendo da Camus tutto quello che ci volete mettere a Grazie a tutti.